... Cari amici benvenuti, ben venerdì, perché se non è venerdì io non ci sono, quindi è venerdì di sicuro, è il secondo venerdì per l'anno 2020, infatti è il giorno 10, con questi numeri 10, 20, vuoi giocarci? No, ci gioco perché giustamente noi cerchiamo di fare le nostre cose. Allora parliamo del 2020, ne abbiamo parlato, abbiamo iniziato l'anno in maniera musicale, adesso dobbiamo ricordarci però che il 2020 ha tanti vantaggi, è appena iniziato, quindi non possiamo ancora lamentarci, o forse sì, perché quando comincia un anno la prima cosa che succede la gente lo festeggia, allora ci sono delle persone che festeggiano in maniera abbastanza normale, come abbiamo fatto un po' tutti quanti, non apre la bottiglia, il panettone ha mangiato un po' prima, si scambia gli auguri, fa una telefonata, un messaggino, poi invece ci sono, e qui si può capire, la gioia incontenibile, qualcuno per abitudine, qualcuno perché è giovane, insomma ci sono i famosi botti. I famosi botti sono anche una cosa bella, per carità, però c'è chi comincia con i botti al pomeriggio del 31 e va avanti fino alla sera del 2, allora se tutto è condensato in quei 15 minuti, intorno alla mezzanotte, se si potesse evitare meglio, se proprio non si può evitare perché uno se no non vive, allora cerchiamo di farlo bene, intanto cominciamo a non andare in posti a lanciare i fuochi dove si può fare del male a qualcuno e soprattutto limitiamoci a quel periodo, facciamo un bel po' di fuocarelli, un bel po' di botti e poi quando è finito è finito, basta, finito. Invece purtroppo la gente, un po' perché li compra, non li finisce subito, li vuole usare anche dopo, i ragazzini poi si divertono, però questo che cosa comporta? Comporta, a parte anche i cristiani, perché adesso qui io voglio portare tutto sul fattore animali, ma anche i cristiani si infastidiscono perché non mi puoi sparare un petardo vicino alla macchina al pomeriggio del giorno 2, mi spavento anche io voglio dire, ma soprattutto sono gli animali, gli animali che chi li ha ovviamente si può anche cercare di sistemare in qualche maniera, allora se tutto succede in quei 20 minuti, uno si regola, insieme con i suoi animali, animali, cerca di fare in modo che in casa ci siano altri rumori, fa in modo che, standogli vicino, non patiscano più di tanto. Quando lo fanno invece fuori da questi orari, allora non c'è più organizzazione, uno non sa più cosa fare, non può ne cadere a comprare il pane, perché se finché è fuori, viene fuori il botto, questa è la cosa a cui volevo arrivare proprio come prima cosa, il primo argomento è questo, perché? Perché il 2020 è partito col botto, però quando si lamenta la gente, dice magari sarà un anno da cani, benvenuti i cani in studio, quando ci sono cani in studio, ovviamente di solito porto anche mia sorella, perché non solo ne ha due, ma li adora e io adoro i suoi, quindi benvenuto a Fiorella, che andiamo a inquadrare subito. Grazie infinite, poi abbiamo Barbara e Fabrizio. Grazie, buonasera a tutti. Allora, adesso inquadriamo anche però, uno è già arrivato nella prima inquadratura, abbiamo Hera, Hera e Hiro. E Hiro, esatto. È certo che però Hera e Hiro. Beh, Hera è la dea giunone praticamente, la moglie di Zeus, quindi è un nome di una divinità. Hiro nel senso di eroe, perché il suo vero nome sarebbe diamante al cioccolato, troppo lungo. Da cui il colore. Esatto, troppo lungo per chiamarlo, soprattutto per noi che facciamo attività di soccorso e deve avere nomi corti, veloci e facili. Benissimo, beh, comunque sono anche bei nomi, voglio dire. L'importante, ecco, hai detto forse già una cosa da ricordare alle persone quando vogliono dare un nome a un animale, deve essere comprensibile, facile e breve, perché è inutile che lo vai chiamare con nomi, cognomi e casati, perché non è caso, perché sarebbe la voglia di dare anche un nome un po' ziggogolato, però poi non rispondono ai comandi. È lungo, è lungo da... Ecco, allora, tu che ovviamente sai anche addestrare gli animali, è possibile addestrarli a non aver paura dei botti? Domanda. Allora, risposta. Noi abbiamo un centro cinofilo, quindi ci passano un po' tanti cani, ci sono cani che il problema dello sparo ce l'hanno dentro, nascono con questo problema e possono essere anche cani da caccia che hanno questi problemi, infatti noi ne abbiamo recuperato uno tanti anni fa, proprio perché non era adatto ai botti e era stato abbandonato in mezzo ai campi, quindi... Bene, dottor De, un cane da caccia che ha paura degli spari. Esatto, è recuperato e pertanto quel cane là ha sempre portato quel problema fino alla morte e alcuni non ce l'hanno, nel senso che ci sono alcuni cani che non hanno nessun tipo di problema, tipo i nostri, che comunque facciamo attività di soccorso, facciamo soccorso in macerie, quindi devono essere abituati a spari, a ruspe, a sirene, a un po' tutti i rumori del caso. Ci sono alcuni che li soffrono nonostante si lavorano, però ce li hanno sempre memory dentro di loro. Ecco, io ricordo ai tempi, insomma, la paura del fuoco per i cavalli per esempio, no? Allora, ricordo che in maneggio siamo dovuti andare, siamo dovuti volentieri andare alla manifestazione, però si trattava di festeggiare, c'era una fiaccolata serale e quindi abbiamo detto, eh sì, con la fiaccola in mano fai te a restare in sella e ci siamo veramente per 15-20 giorni allenati tutti i giorni perché è il primo giorno neanche avvicinarsi, il secondo con l'uomo in cima si avvicina a quello con il fuoco e tu lo tieni fermo e riesci ad avere la torcia tenendo il braccio da mettersi la prolunga al braccio, capito? Ecco, finché alla fine siamo riusciti a calmare tutti quanti, chi si è calmato prima, chi si è calmato dopo, per carità, però, ecco, quindi forse, però non puoi allenarti agli spari, al fuoco sì, perché insomma... Comunque ci sono dei condizionamenti che vengono messi, naturalmente si parte con uno sparo molto lontano e si premia il cane, si cerca di farlo giocare, si cerca di desensibilizzarlo dal problema e poi, facendolo spesso, naturalmente, si può arrivare al fatto che il cane comunque lo subisce, ma lo subisce con più tranquillità. Relativamente. Esatto. E' proprio una questione di inserire lo sparo nel rumore dell'ambiente, è come se nell'ambiente ci fossero sempre quasi. Per questo, infatti, per i cuccioli sarebbe cosa buona abituarli un po' a tutto, perché nell'età iniziale, se vengono a conoscenza di tutti questi rumori, queste cose, in maniera positiva, se lo portano a vita in maniera tranquilla. Però ti faccio la domanda successiva. È importante che anche il padrone non abbia paura? Beh, certo che sì, perché io, per esempio, sono terrorizzata dei volatili e naturalmente il mio condizionamento in quei momenti di, il mio cane lo sente. Parlo dei volatili, ma può essere che io magari temo lo sparo, temo magari i rumori, le sirene. Il mio cane, certe cose le può subire. Quindi nel caso… No, ecco, intanto è arrivato subito un messaggio da un caro amico che ci segue, tra l'altro ci segue da Como, fra l'altro, non è proprio qui vicino, che è Jan, e dice «Ela e Iro, due capolavori di dolcezza negli occhi, tanto affetto da dare e ricevere unici esseri che gli… sono unici, che gli esseri umani imparino». Grazie. Jan, da vicino Como. Grazie. Questo è proprio… è riuscito, beh, grazie ovviamente al nostro regista e al nostro cameraman, perché abbiamo veramente ragazzi bravissimi, che parlo delle belle inquadrature, ecco, questo è quello che potete fare anche voi. Allora, Jan intanto mi ha ricordato che c'è un 34906 34349, ripeto, 3490634349, è anche scritto sullo schermo, comunque per mandare un qualsiasi messaggio, avete una curiosità, anche perché io faccio le domande, però posso dimenticarne qualcuna, che è naturale, che succeda, oppure non ci arrivo, è un argomento che non mi è mai entrato in testa, allora qualcuno può chiedere qualcosa, fatelo perché volentieri, io ce l'ho qui, ovviamente ogni tanto guardo se c'è qualcosa, io leggo e se volete metterci il nome, io vi saluto. Per la solita questione della privacy, vi ricordo che tutti i messaggi vengono cancellati alla fine della trasmissione, quindi non resta nel numero di telefono né quello che avete scritto, ecco, questo per questioni di privacy obbligatoria è fondamentale, c'è, usiamola e cerchiamo di farsene anche un po' i paladini, è giusto così, no? Esatto. Che se uno vuole venire la sua cosa, per carità, ha detto la sua, però poi noi abbiamo accettato, grazie, nella tv non compare, come sapete, lo leggo solo e quindi visto che leggo a voce non resta più niente, se non, è quello che ho detto, nella replica uno può ascoltare quello che è stato scritto, ma chi è stato, a meno che non si firmi, se lo si firma leggo solo il nome e non il cognome, sappiatelo, tanto per dire. Ecco, quindi bisogna lavorare un po' anche sull'umano, nel senso che partiamo allora dall'umano che prende un cucciolo, facciamo un esempio subito, sempre per arrivare, ma non solo ai botti, voglio arrivare un po' più avanti, è chiaro che l'iperprotezione che ha l'umano è classica, è doverosa, è naturale, quelli che lo accicceranno, poi sono anche quelli che dopo una settimana accantonano e abbandonano, attenzione perché purtroppo l'iperprotezione è come capita per i regali di Natale, sono tutti belli, sono bellissimi, a Santo Stefano già ne vorresti un altro, questa è una delle cose che voglio ricordare, non comprate e non regalate cani a chi non è sicuro di volerli, primo, non sognarsi neanche e neanche proporli, perché il nono dice se il nipotino gli piacerebbe un cagnolino, il nipotino dice sì, dopo la mamma dice papà o il marito, uno dei due dice papà cosa gli hai detto e poi si arriva a casa, si arriva a casa sono cavoli purtroppo del cane qualche volta. Esatto. E di queste potremmo raccontarne tante? Ma tantissime, purtroppo sì, perché il cane comunque è un animale vivo e soprattutto nella fase iniziale non riesce a trattenere la pipì, può piangere, può rosichiare, quindi se non viene educato nella maniera più giusta può essere anche un problema poi nel tempo, magari lui assimila determinati difetti e diventa scomodo a chi ce l'ha in famiglia e soprattutto al bambino che è stato contentato subito e poi magari lo mette in secondo piano, in quel momento lì il cane diventa un problema. Poi che non si conoscono di razza e pertanto perché sono belli. Sì. E quindi cominciano i problemi perché alcuni cani hanno anche dei caratteri particolari e se non c'è informazione purtroppo vengono fatti tanti danni al cane naturalmente. Ecco, torno indietro di un passo perché ho detto una cosa che a me è piaciuta molto, il fatto appunto che bisogna sapere come trattarli eccetera eccetera. Allora mi viene in mente, non è che forse anche quello iperprotezione o iperaffetto sono sbagliati, cioè va trattato normalmente, cioè è una bella cosa, la cosa che è, ma devi trattarlo il primo giorno come lo tratterai due anni dopo. Esatto. Perché se lo tratti particolarmente bene all'inizio, forse dopo, patisce se lo tratti meno bene di così. Adesso l'istinto tutti quanti appena lo conoscono, ok, ma passato il primo diciamo mese, dopo deve essere una cosa normale, cioè è piacevole, gradevole averlo, fa parte della famiglia. Esatto. Ma non che uno deve fargli le feste per forza, cioè una famiglia come ci si saluta a tutti, si saluta anche l'animale, uguale, della stessa maniera, ti fa una bella cosa bene, non la fa, va un po' ripreso. Esatto. Però proprio con il classico sistema perché quella sarà la sua vita successiva, immagino, no? Che è quella in cui se, preso così, è anche difficile che ti stanchi, è anche difficile che lo molli. Esatto. Perché se è una cosa ipercalorica che ti fa le feste per 10 milioni di minuti al giorno, ma dopo un po', perché cresce, perché gli interessa qualcos'altro, non ti rifà più, ah beh, adesso può essere questa cosa qui. Certo, certo che sì. Io cerco di cercarne un po', no, l'aspetto psicologico, ma per via dell'umano, perché il cane poi alla fin fine, lui mi fa tutte le coccole del mondo, però si dice ok, stai lì, lui sta lì. Bisogna dire che è un cane, non è un figlio, non è un bambino e comunque deve avere le accortezze che deve avere un cane. Esatto. Quindi non necessariamente deve salire sul letto e mettersi sotto le coperte, perché la sua cuccia ce l'ha. Esatto. Ecco, non deve essere servito per primo neanche a mangiare a tavola, perché magari non sia il caso. Ecco, questo voglio dire, detta così, proprio in soldoni da familiari. E questo va ricordato, credo, perché chi ben comincia è a metà dell'opera. Per quello dico, che se no vengono fuori, tu Fialella lo sai, cani e gatti è la stessa cosa, bisogna seguirli, sì, però per carità, con tutto l'affetto possibile, però le regole come con i bambini. Vanno date assolutamente, mamma mia immediatamente, e ripetute, e ripetute, sempre, assolutamente sempre. Esatto. E non è creativeria voglio dire. No, ma anche un bimbo quando cresce un figlio, gli dai una regola da quando nasce, ovviamente con le necessità poi successive della crescita di quel che può essere, ma ha una regola. Tutti dovremmo avere delle regole. Forse si va male, perché non ci sono più regole. Mentre se dai una regola, io vedo che a casa da noi, come tu puoi vedere, cani e gatti stanno assieme, addirittura il gatto col drago barbuto cammina a fianco e stanno bene assieme, però abbiamo dato delle regole con loro aiuto, è stato inserito anche l'ultimo gatto e non è successo niente, anzi dorme tranquillamente con una colli. Ecco, allora torniamo alle loro figure professionali. Perché? Perché se uno decide e decide e mi prende un cagnolino, benedetta anche la scelta di andarlo a cercare in canile, perché con tutti quelli che abbandonano, se ne viene salvato uno è sempre un premio per chi lo salva, secondo me. Però, insomma, anche lì qualche dritta te la danno. Se non hai mai avuto un animale in casa, sicuramente amici ne hanno che hanno animali, perché se no non ti affezioneresti. Però, attenzione, perché ognuno ha il suo sistema. Allora, a casa mia uno dice, io vorrei fare così, però se ne sento uno che fa colà, colì, colà, 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 sono troppe cose diverse. Allora, chiedete in questo caso a chi lo fa di mestiere. Soprattutto direi proprio per queste partenze, perché i primi sei mesi secondo me dovrebbero essere, credo io, non me ne intendo a sufficienza, potrebbero essere quelli fondamentali. Per dare l'imprinting, allora intanto perché l'istruttore con l'umano ci può parlare e lo può capire, no? Perché parlano la stessa lingua. In compenso l'istruttore parla anche la lingua dell'animale, che di solito l'umano ancora non parla. Quindi se tratta di fare, fai da traduttore. Esatto. Posso vederla così? Esatto. Il mio modo sai di spiegarmi le cose. No, ma è giustissimo. Allora, esistono dei ricorsi per paffi, per i cuccioli e già lì non gli viene insegnato il seduto, il terra, quelle cose canoniche. Si fanno fare delle esperienze al cucciolo e sono delle esperienze motorie, delle esperienze sonore, tattili, determinate cose in cui quel mese, che naturalmente dura il corso, ma prende cani che vanno dai 3 ai 6 mesi ed è una fase molto importante per il cucciolo in cui noi istruttori insegniamo alle persone, al proprietario, il modo in cui deve agire con il cucciolo, insegniamo i tipi di esercizi che si possono fare e da lì poi intanto il cane prende delle esperienze e nella maniera positiva, pertanto già un punto di partenza buono. Poi naturalmente se manca quello si consiglia comunque di appoggiarsi a delle persone capaci perché gli venga fatto proprio il... venga insegnato il modo in cui devono interagire, in cui naturalmente deve crearsi un rapporto. Ecco, io questo naturalmente ne parlo per il discorso normale del cucciolo che arriva in casa perché piace averlo, ha una famiglia completa dove ci sono la mamma e il papà, dove ci sono i figli, quindi è bello che ci sia un animale e quindi è apprezzabile, va benissimo. Aiuta secondo me anche in famiglia perché non vorrei dire ma no? Ognuno di noi ha il momento triste, però non sempre in famiglia c'è chi ti supporta nella tristezza, sei un animale e è quello che ti aiuta sempre. Esatto. Non sbaglio? Beh, non c'è momento critico voglio dire, quando c'è li guardi e ti fanno passare tutto. E questo vale per tutti, quindi che sia papà la mamma, il figlio o la figlia, quando è a turno, l'animale provvede a questa cosa. Ecco, queste sono le cose che voglio sentire dire perché parliamo appunto di un ingresso in famiglia, di una cosa che non ha la carta d'identità, non vota, per carità, non va a chiedere niente se non affetto, un po' da mangiare per carità, però è affetto e ne dona molto di più di quello che riceve di solito. Sicuramente. Ecco, questo non ha grosse pretese. No. E come si dice, è la persona che non ti tradisce mai. Dopo qua, con gli umani invece è un'altra faccenda. Poi però ci sono altri esempi, persone sole per esempio. Allora, la persona sola è facile che vada in cerca, non so se non sia caso però di guardare allora anche all'età della persona prima di capire su cosa si deve lanciare. Perché io faccio un esempio, io sono una persona che vive da solo. Se cominciare a tirare su un cucciolo adesso, sopravvive lui a me, quindi non sarebbe il caso. Quindi è molto più facile se io trovo un cane già adulto, non moribondo in carità, per far vedere che sono più vispo io, ma sicuramente una cosa già adulta, perché così non ha bisogno di cominciare a fare quelle corse pazze che devono fare i corse perché non sono capace di stare lì dietro. Non devo pagare qualcuno che gli le faccia fare, però se non gli le faccio fare io, che mi diverto a fare, allora che invece che venga a passeggio con me. Quindi posso venire al bar, che posso venire a fare la passeggiata, che posso andare a fare la spesa, posso venire in giro a farsi il giretto. Non lo so, quello che faccio, quello che faccio, anche con me qui, per dire, no? Queste sono le due cose da vedere, credo subito, no? Esatto, l'importante è anche la scelta del cane, perché per una persona anziana non si può dare un cane superattivo, perché non si riesce poi a gestirlo. Pertanto sarebbe sempre idoneo che ci si appoggiasse a delle persone che danno dei consigli su come, anche i canili stessi hanno dei volontari dentro che dicono questo cane va bene per o non va bene, capito? Quindi comunque... Perché lo vedono subito dall'indole. Esatto, sì, bene o male, loro li gestiscono, sono lì e hanno modo anche di vedere il cane di capire che... che tipo... adesso per esempio io l'ho presa in canile, lei aveva due mesi e mezzo, sono entrata in un canile in Slovenia, eravamo lì per un'esercitazione, l'ho vista, nonostante avessimo già altri quattro cani a casa, me ne sono innamorata, ho detto la vorrei portare a casa. E l'avevano presa da una settimana, quindi comunque era un cane giovane, attivo, pieno di vita, ma anche con un forte trauma contro l'umano. Quindi io ho lavorato tantissimo su di lei, proprio per... poi facendo appunto soccorso, lei va in cerca delle persone. Con l'altro. E quindi esatto, quindi ho fatto un grande lavoro su di lei. Però è anche vero che ero consapevole di prendere un cane giovane e attivo. Se invece una persona anziana va in cerca di un cagnolino, è bene che comunque gli dicano... Magari non di grossa taglia, perché se no... Esatto, soprattutto scappa. E non quelli che hanno bisogno di fare 20 chilometri al giorno di corsa, perché se no... Esatto. Perché anche quello, io di solito credo che l'anziano non lo faccia, però potrebbe essere motivo di dire mamma mia, no, non lo posso tenere. Abbandonarlo no, però magari lo fa vivere male, ecco. Sì, sì, succede. Vive male il cane e anche l'uomo, perché quando il cane vive male, vive male anche chi gli sta vicino, no? Esatto. Credo una cosa abbastanza... A me succede spesso, anche avendo una toilettatura da tanti anni, uno dei problemi più classici è magari l'anziano che comincia a stare male, che ha il cagnolino, che è la sua migliore vita che ha, però non riesce più a stargli dietro, più a gestirlo, e allora chiede aiuto su come piazzare il cane. Allora, in questo caso, piuttosto di farlo passare per il canile, si mettono in giro i vari volantini e chi conosce magari la persona cerca di sistemare il cane nella maniera migliore. C'è eventualmente qualcuno che, se fosse, dice vabbè, scorta, io non me lo posso portare a casa, te lo lascio a te, però vengo io, tre, quattro ore, faccio quello che c'è da fare. Esistono servizi di questo genere? Allora, di questo tipo no. Cioè, ci sono le pensioni, ci sono gli stalli. Cioè, io parlo di un aspetto di babysitter, sarebbe un pet sitter. Esatto, un pet sitter, ma in questo contesto è difficile. È più se glielo lasci e loro te lo gestiscono, o se vengono a casa e te lo gestiscono a casa. Ma lasciarlo perché poi il proprietario vada, io ancora non ho ancora sentito questo tipo di servizio. Sì, no, no, perché uno potrebbe non avere spazio a casa sua, vado volentieri, io a casa del cane, però certo non puoi stare tutta la giornata lì. Esatto, sì. Perché soltanto uno anche lavora. Pensavo a un servizio a livello volontario. Non c'è ancora, si potrebbe inventarlo. Ora non c'è, non è ancora una figura che conosco. Si può inventarlo? Si potrebbe inventarlo. Ci sono chi fa adozioni a distanza e quindi potrebbe anche essere una cosa del genere. Lo dico solo per quello, sai? Andiamo a vedere cosa ci scrivono. Allora, io fin da piccolo ho avuto un cane che si chiamava Billy. L'ho sempre amato, ma purtroppo è morto recentemente. Non abbandonati i cani. Un saluto da Leonardo e Angelica e dei due piccolini Lara e Chris. Grazie. Avete capito voi chi sono, chiaramente. Molto bene. Ecco, tra i vari modelli di volontariato potrebbe non essere assurdo pensare anche a questo. Per persone adulte, non dico anche anzianissime no, ma anziani erzilli sì, perché purtroppo una persona che per una trattura è a letto può starci anche per sei mesi. Quindi avere qualcuno che ti porta fuori il cane, eccetera, eccetera, che poi è la stessa cosa, ti aiuta anche a fare la spesa, voglio dire magari in questa cosa qua. Però bisogna che siano persone che amano gli animali, perché che trovi qualcuno che vada a farti la spesa per carità in condominio, in qualche amico, parente, di solito c'è. Non sempre lo fanno volentieri e lo dimostrano anche, però voglio dire, ridiamoci perché gli umani sono molto più cattivi degli animali, l'animale lo farebbe volentieri, non lo può fare lui, ma che ami gli animali, perché sennò siamo a punto di prima, c'è la gente che ha paura, non si avvicina, quindi è impensabile che un volontario che ha tanta voglia di aiutare viene a caparti le pulizie e ti fa la spesa, ma se c'è l'animale preferisce, ecco, addestrare anche le persone ad amare gli animali, è possibile. Quello non lo so, è una brutta cosa questa cosa. Perché è un peccato che la gente abbia paura, voglio dire, se è un trauma io posso capire, perché anche qui le cose che venirebbe a provare ai bambini, è inutile farli giocare con i cani quando sono bambini, perché i bambini mettono le mani dove capita, se il cane si rivolta anche senza che gli faccia niente o gli abbaia perché è impastidito, il bambino prende un trauma e i cani diventano cattivi, non è vero, è che non ti hanno fatto avvicinare nella maniera giusta. Esatto. Ecco, sono, sono, dove si possono leggere queste cose? Ma c'è un manuale del padrone perfetto? Allora, ci sono tanti manuali, però l'esperienza è la cosa essenziale, cioè l'esperienza si fa sul campo e quindi nessuno nasce imparato, deve comunque adoperarsi per conoscere, per fare esperienze e però appunto poi devi anche avere la buona sana voglia di amare l'animale. Vado a leggere ancora, allora qui dice, buonasera concordo con il concetto che, primo, se si decide di prendere un cane bisogna pensare che non rimane sempre cucciolo e che ha comunque delle esigenze. Secondo, scegliere un cane che possa essere idoneo al proprietario e non per moda. Io ho un pastore tedesco che è una certa età e prima di prendere il secondo cane ci ho pensato parecchio, è un fratello di Iro, visto che anche noi non siamo molto giovani. Ringrazio Fabrizio e Barbara con la sua associazione che ci aiuta nell'inserimento. Ecco, quindi questo è un esempio di una cosa riuscita. Sì, perché c'è la storia dietro questi due cani e sono due cani che Iro e il fratello che ha appena mandato il messaggio, sono due cani che praticamente abbiamo adottato in età abbastanza avanti. A noi perché c'era appena mancato un golden di sei mesi, mancato per leptospirosi e pertanto eravamo talmente tanto dispiaciuti, talmente tanto giù di morale e non c'era l'esigenza, il bisogno di prendere un altro cane per forza, però non so come ci siamo arrivati. Al cuore. E siamo arrivati in questo allevamento ed erano due cani che praticamente avevano un piccolo difetto, avevano ancora un testicolo che non era sceso e quindi noi ne abbiamo preso uno. Nel frattempo l'altra persona che è un nostro allievo veniva già al nostro centro con il suo pastore tedesco che ha la sua età e che comunque aveva anche bisogno di avere non un cucciolo ma una compagnia e allora li abbiamo accompagnati a vedere questo cane e se non sono portati a casa. Sta di fatto che il cane è fantastico come lui e la femmina di pastore tedesco che adesso ha 11 anni ha ripreso a pieno ritmo la sua attività, si baciano, stanno insieme. Il cane anziano ha riscoperto di nuovo la voglia di essere partecipe. Vi è venuto l'istinto materno. Esatto. Va bene, insomma, questo è fondamentale. Mi fa piacere sentire i commenti perché vuol dire che insomma, io ho buttato un po' di idee queste cose qui, però vuol dire che non sono proprio del tutto assurdo. E credo che andrebbero ancora più portati avanti perché il problema del volontariato e i problemi soprattutto delle persone anziane sono tanti e sono collegati, quelli che ce li hanno gli animali, perché li hanno sempre avuti. C'è uno, un uomo invecchia, ma cambiano gli animali nella sua vita perché durano molto meno nella vita loro di noi. Però se uno è abituato, non è che denuncia al cane perché aspetta che fra un po', diventa pericoloso. Anche perché uno può avere oltre 100 anni, non è necessario, voglio dire, morire presto. Però un tipo di servizio è che è sempre così, no? Adesso quando parliamo di volontari, ci sono quelli bravi e quelli che lo farebbero anche subito. Poi purtroppo quando si va a organizzare queste cose qua, c'è qualcuno che all'improvviso dice sì sì, lo faccio io, si mette a farne da capo e non se ne viene fuori con la coda. Non dico altro perché poi può sembrare che io dico cattiverie, però è vero, no? È facilissimo. Quando si trova, facciamo così, come quando, parlo della mia gioventù, si trovava, prima di andare da qualche parte, si parava, dove facciamo oggi? Andiamo al cinema? Andiamo al cinema, benissimo, andiamo al cinema. Due parole, andiamo a vedere questo o quell'altro, si decideva. Adesso invece si va dalla carta bollata in poi, le comunicazioni non sono più a voce, tutte scritte, ma non quelle da protocollare, non quelle con la barca da bollo, è proprio il ciao, il buongiorno che ti scrivono. E vabbè, certo, è più comodo perché telefonare qualche volta anche no, non sai uno cosa sta facendo, quindi il buongiorno ci sta a scriverlo. Però, insomma, da quello a cominciare a domandare, scusa, ma i cazzini sono sul secondo cassetto a sinistra o li hai messi da un'altra parte? Via WhatsApp, naturalmente. Qui si esagerà un po', no? Esatto. Ho l'idea che ho fatto un esempio ancora da poco, eh. Ho fatto un esempio ancora da poco. Si vede anche di peggio. Siamo capaci di vivere assolutamente, anche forse, non dico senza mangiare, senza bere, senza bere no, ma senza telefono uno più di quattro ore non resiste, se l'ha dimenticato lo va a prendere per forza. Immediatamente. Credo che sia proprio una, come si chiama, ti viene una malattia il telefono. Una volta era per chi non lasciava a casa l'orologio perché non usciva a vedere l'ora, adesso, ti manca, beh ti manca il cervello, per molti, perché in effetti nel telefono c'è tutto. Purtroppo sì, la nostra vita è dentro il telefono ormai. Il 2 più 2 che ci facevano fare l'elementare, adesso lo fa il telefono perché la gente non si ricorda più che fa quattro, forse, ho detto giusto? Ecco, ridiamoci, ridiamoci perché sono così, no? Sì, è vero. Ecco, loro non hanno il telefono. No, e la cosa bella è che quando siamo con loro neanche noi ce l'abbiamo, perché il tempo che passiamo con loro, il nostro telefono è nella giacca e solo se suona, che c'è bisogno, siamo, ci siamo, ma il telefono è proprio l'ultimo. Però si può digitare un cane, sì, facendogli impressione per massaggiarlo. Certo, e io la massaggio tutto il tempo, la mia piccola era. Vabbè, io non ti ho ancora fatto parlare, perché tu mi hai detto, ho l'ora uccidine. Ecco, visto che, ma allora dirmi almeno come si chiama l'associazione, cosa fate, in tre parole, tre, quelle che riesci, senza... Allora, noi siamo a IAU, associazione italiana amici dell'uomo UCS, e praticamente facciamo soccorso, superficie, macerie e acqua, abbiamo le tre specializzazioni. E qui abbiamo anche uno specialista. Sì, lui ha fatto il primo esame IPO-R, ci stiamo preparando per l'operativo. In che materia? Superficie e maceria per adesso. In superficie e maceria, però? Per il soccorso in maceria e in superficie. E la piccolina? La piccola, anche lei sta lavorando per l'operatività, che avremo ad aprile, in soccorso macerie. Perché lei sicuramente è passata per tutto, quindi... Lei è veramente uno spettacolo da vedere lavorare. È più difficile, però forse riesce a coprire ed andare in posti molto... Perché con una certa taglia riesce a saltare da una parte all'altra, cioè riesce ad andare dove lei è poverina, farebbe fatica. La differenza tra i due è sostanziale, perché lui magari con lo slancio fa salti alti, si arrampica magari in maniera più energica. Lei se c'è un buchetto, però va a vedere se c'è qualcuno. Lei però si infila ovunque. È la differenza. Esatto. Si completano. Quindi possono lavorare tranquillamente insieme. A me piace lavorare col cane piccolo, a lui piace lavorare col cane grande. Dov'è che vi troviamo? A Terradura, 2 Carrare, abbiamo il Centro Cinofilo. E su Faccia da Libro, detto Facebook, ci siete? Sì, abbiamo le due pagine. Abbiamo la pagina dell'Associazione Italiana Amici dell'Uomo UCS, dove ci sono tutte le varie attività di soccorso come volontariato. Abbiamo la pagina Mai di Rebau, che è del Centro Cinofilo, dove è un'associazione a promozione sociale. In tramite le associazioni fanno anche attività di protezione civile, fanno evacuazioni di scuole, andiamo per gli asili, fare educazione cinofila. Cerchiamo comunque di portare nel sociale il benessere dell'animale, la conoscenza, soprattutto con i bambini, con gli anziani. Perché a me viene il solito sospetto, magari il maestro o la maestra possono essere persone che hanno paura dei cani, se no perché ai bambini subito, alle elementari, non fanno venire qualcuno con i cagnolini, sicuramente quelli un po' addestrati, così non c'è pericolo che succeda, che si rivoltino, anche se gli mettono il dito nell'occhio, questo sicuramente è di sicuro. Ma perché? Perché è addestrato e quindi è paziente. Però questo sarebbe l'unico sistema di avvicinare intanto perché non abbiano la paura. E dopo crescendo impareranno anche a comportarsi, ci vorrebbero un pochettino, come si dice, anche i genitori che aiutano in queste cose. Sì, allora noi siamo molto richiesti sugli asili, soprattutto quelli dai 3 ai 6, anche i prenatali. Ma in quel caso là i piccolini, quelli del nido, diciamo, non hanno ancora un concetto di... La percezione di che cos'è. Però vedono il cane, vedono gli altri bambini che si avvicinano, cioè di solito dividono le due cose, se sono asili misti, i piccoli piccoli stanno in un angolino e guardano gli altri che interagiscono con i cani. E siamo veramente molto richiesti, soprattutto negli asili. Perché fa entrare in famiglia il concetto che non fa paura, però lo devi rispettare, perché fondamentalmente ti fa paura. Insegniamo dove sono le parti, che si deve toccare il cane, cioè è importantissimo per un bambino. Ecco, io credo che siano queste le cose da portare avanti e anche per questo servono sicuramente che le associazioni possano crescere. Certo, trovare fondi è sempre difficile, ma in ogni caso, soprattutto nel numero di volontari, volontari che si accontentino di esserlo. Esatto. Perché, no? Una volta si parlava, una delle cose, un po' di regalo che si può fare alla persona è dedicare un po' di tempo. Ecco, in mezzo a un mondo in cui delifero di raffae c'è tanta roba da fare, ma comunque tanta gente non fa niente. Giusto? Assolutamente. Li vediamo in giro. Assolutamente. Allora, una volta alla settimana, un paio d'ore vado, che ne so, centrocinofilo in un canile, qualcosa da fare, vi trovano subito qualcosa da fare. Non pensate di andare là, che uno dice, vado lì e mi mandano via. Non vi manda via nessuno, questo è sicuro, no? Esatto. Anche solo per provare un'esperienza, quella classica del portarlo a passeggio. Certo, è una delle cose che facciamo fare di solito con i cani già più grandi. Beh, questo è il discorso. Allora, saluto a Stella, la cagnolina, il negozio di parrucchiere, che bello, è Jan questo, che deve avere, e mi ha mandato la fotografia, non ve la posso mostrare, però lì a Como ci devono essere una bassottina, che è di Sergio Antonella, che viene in negozio. Due esseri fantastici, che ci danno serenità. Manu? Vabbè, grazie a Jan, però, voglio dire, io non posso mostrare la foto, perché, vediamo. Se me la giro, mi si può inserire. Se te la giro al volo, posso provare, lo faccio subito. Allora, scusatemi, intanto Fiorella spiega cosa potrebbe essere utile da fare intanto, quando uno decide, prima cosa, voglio il cucciolo, voglio il cucciolo, cosa bisognerebbe dirgli ai bambini? Eh, bisognerebbe dire, quando voglio un cucciolo, intanto perché voglio un cucciolo, dovrebbe essere desidererei avere un amico e per amico vorrei un cucciolo di cane, primo. Secondo, sì, secondo ai figli andrebbe insegnato il rispetto per gli animali, cosa che i genitori si precipitano in allevamenti, in canili. Mio figlio vorrebbe un bambino per giocare e qui si trovano me, ovviamente, si sa come va a finire, vanno a casa con un Trudi e non c'è educazione Claudio, ma non in loro, non c'è educazione nel genitore che dovrebbe insegnare prima di arrivare al canile, cioè scusa, prima di arrivare dagli educatori cinofili, insegnare perlomeno come entra in casa il cane. Prima non deve stringerlo come fosse una polpetta, non gli schiaccia il naso, non gli deve tirare l'orecchia e nemmeno la coda. Un cane, un gatto, un top, un criccio, qualsiasi cosa entra in casa. Bisogna insegnare ai figli il rispetto per gli animali. Questo appena uno ha una creatura vivente che entra e non è un umano. I genitori si dimenticano il primo step. Amare un animale vuol dire insegnare ai figli il rispetto per l'animale. Siccome invece, come purtroppo dico spesso nelle mie trasmissioni, ma il problema dei ragazzi è che l'affetto viene dato in euro, comprategli la Playstation ma non comprategli il cane, perché la Playstation possono anche romperla, eccetera, eccetera, poi sarà capo di vostri. In ogni caso costa sicuramente di più, però ecco qua la foto che era arrivata, ecco, questo sì lo posso mostrare, è una foto che mi è stata mandata via WhatsApp, quindi ecco qua. Vedete, questa è una bella cosa. E purtroppo però col 3490634349 dobbiamo chiudere, perché se non vado a dare la regia, mi dice che abbiamo ancora un minuto? Ne abbiamo molti di più. Molti di più, benissimo. Noi abbiamo molti di più, sono felice perché intanto ci sta ancora un messaggio, se volete, grazie. E poi, intanto vi ricordo che alle 21.20, questa è una diretta intanto, dopo la diretta ovviamente c'è un po' di pubblicità, perché voi sapete che fra un programma e l'altra un po' ce ne vuole, ma alle 21.20 invece c'è un'altra diretta, questo lo ricordo subito, si parla di pesta del radicchio, quindi comincia già i movimenti, aiuto, aiuto, aiuto. Vi faccio vedere, se non lo fa la regia, ve lo faccio vedere io, questa è la mostra del radicchio. Organizzata ovviamente dalla Proloquo di Zero Branco, questo ve lo dico già direttamente, la diretta è alle 21.20, sempre qui su Caffè24, i canali sono a livello regionale, quindi o questo o quello, dove siete lo vedete. Poi ovviamente avete anche la nostra pagina, CaffèTV24, www.caffetv24.it e da lì c'è lo streaming che va assolutamente in tutta Italia. Grazie, 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 scusami, anche su Facebook canta Valle Italia. Perché noi no su Facebook però, cattivo? Come mai noi no? Sul Facebook non ce la facciamo noi, lo fa Davide, direttamente. Ah va bene. Su Canta Valle Italia. Vabbè, prossima volta il mio organismo lo faccio io. Vabbè, allora aspetta lo levo però a cambio di quadratura, perché devo ricordarvi che è la 27esima mostra del radicchio, quando parliamo di rosso tardivo di Treviso, IGP. Ecco, questo tanto per dirvi che intanto noi siamo qua, abbiamo i nostri amici pelosi, li accarezziamo, invece loro sono anche mangiano fra un po'. Va bene. Ci sta anche quello. E' il bello di passarsi la palla per una trasmissione e l'altra, perché siamo una televisione dinamica. Noi non siamo chiusi e ognuno fa le sue cose e basta. Cerchiamo anche di collaborare, quindi giustamente, poi porteranno del radicchio, però lo aspetto la prossima volta. E' vero, ci passiamo, ci passiamo e ci riparliamo le cose. E' giusto perché siamo una squadra. La squadra deve essere anche quella che è in famiglia. La squadra è composta da tutti gli umani più tutti gli animali. Non c'è una squadra dove sono quelli di serie B o quelli di serie A. E' la stessa cosa. Certo, gli umani sono quelli che lavorano e i cani sono quelli che magari tengono e fanno la guardia a quello che uno con i suoi soldini si è potuto comprare. Però ognuno è il suo incarico, una squadra però. Non andiamo a vedere che è lui, perché è il cane, è il cane. E comunque non va nemmeno umanizzato. Questa è la seconda cosa che credo sia la prima cosa che vi spiega anche l'istruttore. Perché umanizzare l'animale è sbagliato. E' sbagliato animalizzare un uomo, anche se non sono così tanti di persone ormai animali. Basta leggere dalla prima all'ultima pagina di tutti i giornali. L'ultima no, di solito è solo pubblicità. Però in mezzo c'è di tutto e di più. Ecco, che il mondo stia andando male. Una preghiera per... L'Australia. Per l'Australia. Eh sì. Sì, lì poverini. È una grande catastrofe. Una catastrofe immensa. Io sono sempre quello che però, io non so, ma io ammiro, ammiro gente come Lewis Hamilton. 500.000 ha regalato di suo il pilota. Non ho sentito... Ecco in giro di queste cose. Tante cose. Non capisco questa cosa. Io non so se... Claudio, scusami, ti saluto Davide Pase da Zero Branco. Come vedi ci sono le immagini. È già tutto pronto. Molto bene. Allora, ciao Davide. Porta a casa il radicchio, se no mi arrabbia. Se mi sente o no mi sentirà. Poi glielo dice la regia. Questo siamo d'accordo. È un piacere, è un piacere vedere che loro... Anche noi andiamo in un mistero una volta o l'altra. Magari la facciamo dal campo vostro. Magari. Sarebbe una bellissima cosa. Così facciamo vedere come si sgambano, eccetera, eccetera. Esatto. Ecco, una delle cose più importanti comunque, ripeto, è se si può darti una mano all'Australia. Ma non ho capito se l'Australia si tiene un po' fuori da sola. Però, onore al merito, quando vedo Lewis Hamilton, sì. C'è anche un pilota australiano. Non so cosa abbia fatto, non so cosa abbia detto. Però di Hamilton l'ho saputo e non è una cosa da poco, per carità. Per lui, neanche per lui, non è una goccia comunque. Sì, sicuramente. E' una signora donazione. Ecco, questo vuol dire cuore. E' cuore che lattita in certe cose, come è successo per Venezia. Io sono stato quello che ha postato il fatto che per un focherello a Parigi sono arrivati a milioni in poche ore. E invece per Venezia, mi ne frega nessuno, vabbè che i Veneti dicevano di un'autonomia, è giusto che si arrangino loro. No, vabbè, per carità. Però, parliamo dell'Australia, invece anche loro sanno gestire il loro territorio. Però non so se, mamma mia, forse all'inizio qualcosa non deve essere andato dritto, dritto. Perché quando si propaga così, la sfortuna di avere il tempo sempre, la temperatura sempre più alta, però mamma mia, non lo so. E io, ecco, vedete, questo è quando la natura ti insegna che non la fermi. Non fermi il fuoco, fai fatica. E non lo fermi. Non fermi l'acqua, quella non la ferma nessuno. E quindi cosa si può fare? Intanto mettersi d'accordo prima, per fare in modo che non succeda. Se è vero che sono stati tutti quegli episodi di incendi e dolosi, io non sono mai stato buonista. Io ho sempre pensato che le leggi devono arrivare fino alla fine. Quindi se uno ha fatto morire la gente, non lo so. Per carità, non voglio dire niente. Pogliatemi bene, non sono così cattivo come posso sembrare quando dico certe cose, però ti viene distinto, non puoi vedere morire milioni. Milioni, milioni, si parla di milioni. Di animali. Sì, 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 ma poi si parla altrettanto del koala che è lì e basta. Decine di esseri umani, tra l'altro. Certo. Non è che sono solo gli animali, anche decine di esseri umani. Certo. Senza la flora e la fauna. Esatto, perché la flora, così come la fauna, è sparito. Si rischia l'estinzione di qualcosa, sicuro. Purtroppo sì. E chissà quanto è, lo sai dopo. Sì, lo sapremo dopo perché al momento si sentono un sacco di cose, però purtroppo la verità, la realtà la toccheremo magari tra due mesi. Tra due mesi e lì ti chiedi cosa poteva essere fatto prima. Ma poi si cerca sempre la colpa di chi sarà. Magari la colpa è stata veramente del tempo e non è stata una cosa voluta. Però è doloroso, è molto doloroso questo, è molto doloroso. Sì, forse, ma magari qualcuno più bravo. Siamo giusti, maestro? Siamo arrivati col tempo? Se mi dice di sì. Sento dire di sì. Sento dire di sì. Allora, noi vi lasciamo, un po' di pubblicità, poi si parte da Zero Branco, altra diretta. Che voi vi dico, venerdì prossimo siamo ancora qua. Casa Caffè c'è ancora, prossima volta come sempre, alle 20. Grazie e che sia un gran weekend, bellissimo e sereno per tutti. Ciao, grazie ragazzi. Ciao. 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 Autore dei sorrisi